Now, say my name Amore mio, Florenzino È un grande Comunque, oggi dovrebbe essere la giornata in cui conquistiamo la promozione Esattamente Quindi, vediamo quello che potremmo fa Subito, subito attacca il Granada Steam Il Granada Steam Guardatelo, Robben Incredibile, che cosa ha fatto? Quando Sony? A me va bene Robben, il prossimo A mezzo Cazzo, perché va a scatti? Decilio, carica adesso da fuori Vai in copertura subito a Sony Vediamo il Gervinio È un bel duello qua, da una parte Gervinio e dall'altra Robben Gervinio Contrastori La stessa squadra Eccolo E' bello E' che è arrivato Fa' passare lui E' guarda la rete di Francesco Ah no Francesco Totti Il Capitano Yesigna Sì, però che culo Eh no, se te che hai fatto passare Non è culo E' che questo è uno sbaglio Tu, ti assolutamente Non ti sei messo Vai Ripartiamo subito con Pepito Rossi Pepito Rossi se ne va Pepito Rossi va dritto Passa comunque Pepito Rossi Il tiro E' la rete non va Poi mi spieghi perché non segno Non ne ho idea Mattia Mattia Eh, eh, eh Questo è infame Io faremo Ma lei non l'ha visto In mezzo Cazzo Ma è fuori gioco Non è fuori gioco Non è fuori gioco Non è fuori gioco Non è fuori gioco C'è la rete Mamma mia Non è fuori gioco Però Tu sei più a controllare La fuori gioco Vabbè Marco Marine Grande Applausi per lui E' letto Il fuori gioco In tempo E' lo santo on Ma questo è un grande Robben Bondare Robben Bondare Robben Santoro non lo riprende più Robben 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 tira martina destino c'è la massa mamma mia che era sì impressionante qui il numero 9 mattia nello sposo e ciò che ha avuto e il spazio si fa tutti incredibili gervinio come robben ma fa la cazzata di entrare di passarla a totti e disegnare il bambino ma che cazzo di culo è? questo è florenzi tra l'altro la palla per rossi il gran steam si vuole riscattare rossi 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 rossica guarda che la palla chi dà perde palla marin è l'occasione per il gran steam per disegnare mattia destro la palla di nuovo per marin marin la prende marin il tiro oddio come ho fatto a cagarselo marin non il nostro purtroppo va avanti va avanti per in immenso per in vai roben 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 può farsi tutto il campo da solo se solo lo volesse ma che ha fatto non lo so però si è mancato qualcuno in qualche modo roben 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 vada solo roben vada solo roben vada solo roben 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 assurdo roben 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 marina 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 che ha fatto 3 a 3 3 a 3 1 10 ma che dici perchè il suo rossino servizio dai partiamo come il primo tempo all'inizio 0 0 3 a 3 rigore no ma che cazzo stai a diiii ma che stai a diiii stia scherzato stia scherzato no ma non può essere rigore ma che sta a diiii il capitano il capitano che fai? se segni i surti e se tu cosa? sinistro ube no dai per in porcot quanto sei cazzo roben il cross in mezzo di testa! guarda che cazzo che culo se ti levi dal cazzo magari posso passare la palla in pace che dici? mi ha fatto una cazzata, tagli così vai così vai che è libero vai che sta... dai adesso stai da solo vai da solo eh fallo per pareggio! fallo per la promozione! per la promozione! cotincio dai decidio dai che ce la possiamo ancora fare vaffanculo pure questa è andata male e niente noi ci vediamo alla prossima se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace e tutto quanto e ci vediamo al prossimo video ovviamente sono un po' dispiaciuto perchè vorrei passare questo cazzo in turno ma la prossima ce la faremo ve lo prometto bella ciao Grazie per la visione